Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione sul metodo per tarantana della tritana volumetrae. Oggi vedremo insieme l'esercizio numero 6, che è così. Questo ritmo in questo caso l'ho ripetuto due volte. Abbiamo, vedete, in chiusura, in battere il 4, in quinta posizione, in chiusura, in battere il 4, in levare il 3, poi sempre 3, 2 cerchiato, 4, per 3 volte. 1, 2, 3, chiaro? Bene, è questo praticamente. Poi, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2 cerchiato, 4, 3, 2 cerchiato, 4. Con i bassi li faccio molto lenti, così. La tritana, quando li prende, ci vorrà il basso. Ed è così, quindi. Ancora questo. Per molto tempo queste due battute le ripetete anche in apertura. Lo ripetete più volte. Bene, perché è esattamente quello che c'è scritto. Quindi le due battute in chiusura sono le stesse in apertura. L'esercizio è questo. Buon studio. Ciao a tutti e alla prossima lezione.